Buonasera e benvenuti all'edizione di Erna del Tg di Teleregione Live in apertura. Partiamo con la politica. Stamana è la visita di Matteo Salvini a Cagliari che ha incontrato Solinas per parlare delle prossime edizioni regionali in vista del 25 febbraio. La sua proposta, Solinas di nuovo in Regione e Truzzo di nuovo a Cagliari. Sentiamo Maurizio Piloni di UTG. Venghino, venghino. Mi dono eh? Mi ha mandato quello rosso e non ho preso quello rosso. Squadra che vince e non si cambia. Truzzo ancora a Cagliari e secondo mandato per Solinas. Per Matteo Salvini è questa la soluzione migliore che il centrodestra ha per arrivare preparati alle regionali di febbraio e le amministrative cagliaritane in primavera. Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti era in visita oggi a Cagliari nella caserma dei carabinieri di piazza San Bartolomeo per osservare lo stato di avanzamento degli interventi sulla storica struttura intitolata al Maggiore Livio Duce anche se prima si è concesso un faccia a faccia a porte chiuse con Solinas a Villa Devoto durante il quale probabilmente si è toccato anche il punto della possibile ricandidatura del governatore più volte caldeggiata pubblicamente dal leader della Lega. Io non impongo niente, rappresento una forza autonomista la Lega che nasce dai territori e che ascolta e rappresenta i territori quindi nessuna scelta a Cagliari viene presa a Roma o imposta da Roma. Sicuramente io ho sempre applicato il principio squadra che vince e non si cambia. In Sardegna, come in Abruzzo, come in Basilicata, in Piemonte, in Umbria, come a livello nazionale e in Europa per me il centro-destra unito è un valore aggiunto. Quindi faccio e farò di tutto per garantire l'unità della coalizione di essere più forti, più veloci, più efficienti, più coerenti. Ovviamente per quello che mi riguarda un sindaco uscente, vari candidato, un governatore uscente, vari candidato. Questa è la posizione della Lega e conto che troveremo un accordo positivo con tutti e per tutti. Salvini ha poi toccato numerosi argomenti caldi, dal problema trasporti ai finanziamenti per la Sardegna. Saranno 10 miliardi promette, 5 solo per le strade all'ANAS. E apprenderà domani in aula l'ultima finanziaria regionale, una manovra blindata da oltre 10 miliardi di euro per evitare l'esercizio provvisorio. Sentiamo Stefania Costa. Entrerà in aula domani, 28 dicembre, l'ultima finanziaria della legislatura e sarà blindata. L'accordo, raggiunto tra maggioranza e opposizione, dovrebbe garantire un via libera veloce senza intoppi, indispensabile per evitare l'esercizio provvisorio. Le eventuali variazioni saranno demandate a chi vincerà le elezioni. Il testo contempla solo 5 articoli per 10 miliardi e 600 milioni di euro con la sanità che impegna oltre 4 miliardi di euro di stanziamenti ai quali si aggiungono le misure per la non autosufficienza. Il fondo unico agli enti locali vale 550 milioni di euro e tra le emissioni più importanti gli 892 milioni di euro per trasporti e diritto alla mobilità. Capitoli decisivi anche quelli dedicati allo sviluppo sostenibile, ambiente, agricoltura, formazione e valorizzazione delle attività culturali. Al turismo sono dedicati 72 milioni di euro. Poi la diversificazione delle fonti energetiche, l'ordine pubblico e la sicurezza. 1 milione e 700 mila euro per la giustizia. La finanziaria approderà prima in commissione bilancio e poi in aula nel pomeriggio con approvazione stimata. Per le ore successive sarà la base di partenza per la copertura delle spese per la prossima legislatura con possibilità di cambiamenti e quindi variazioni dopo i primi tre mesi di governo. Nell'ambito dell'attività di incontrasto all'evasione fiscale i finanziari del Comando Provinciale di Cagliari hanno scoperto un'importante evasione da parte di un imprenditore cagliaritano per oltre 800 mila euro. Nei guai una società dell'Interland cagliaritano esercente all'attività dipose in opera di infissi e arredi. Nonostante avesse ricevuto l'invito a regolarizzare la propria posizione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate l'imprenditore è rimasto inerte non fornendo né risposte né alcun elemento giustificativo rispetto alle potenziali irregolarità segnalate. E' tragedia. Ieri sera a Olbia l'imprenditore Mario Dettori a bordo di uno scooter 125 è finito contro un albero in via Roma. Soccorso dal 118 è morto dopo poco l'arrivo. Al pronto soccorso sentiamo Daniela Astara. Sul tronco dell'albero resta il segno del violento scontro e sull'asfalto alcuni frammenti della moto andata distrutta il casco e le scarpe. Erano da poco trascorse le 19.30 quando Mario Dettori a bordo del suo scooter 125 poco dopo la curva di via Roma in direzione sud di Olbia per cause ancora al vaglio della pulizia locale guidata dal comandante Giovanni Mannoni ha finito la sua corsa nel modo più tragico andando a sbattere su un albero sul ciglio della carreggiata. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto hanno trovato l'uomo a terra ma ancora vivo. I medici hanno fatto di tutto per tentare di salvare la vita a Dettori. I primi soccorsi li hanno prestati in strada poi la decisione di trasportarlo in pronto soccorso ma al Giovanni Paolo II il suo cuore ha smesso di battere troppo gravi i traumi e le ferite riportate. Dettori, noto imprenditore di Olbia lascia una moglie e una figlia. Le indagini degli uomini della polizia locale ricostruiranno la dinamica. Saranno utili le eventuali testimonianze e le analisi sul mezzo che è stato posto sotto sequestro. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli e la strada è rimasta chiusa per alcune ore durante i rilievi. E' un altro incidente a Cagliari. Un'anziana di 80 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Bruzzo, ha un trauma cranico e una sospetta frattura della spalla. Le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13. L'automobilista si è fermato per soccorrere la pensionata e ha chiamato il 118. Sul posto, insieme all'ambulanza, sono arrivate le pattuglie della Polizia Municipale per i rilievi. Il collegamento ferroviario a Olbia Aeroporto Costa Sberalda compie un passaggio importante verso la sua realizzazione. La rete ferroviaria italiana ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione del collegamento ferroviario per l'aeroporto di Olbia. Un progetto semplice e binario, ora esecutivo, che prevede anche la nuova stazione cosiddetta di testa denominata Olbia Aeroporto. Giandominico Mele. Il collegamento ferroviario Olbia Aeroporto Costa Smeralda compie un passaggio importante verso la sua realizzazione. RFI, Rette Ferroviaria Italiana, ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori relativi alla realizzazione del collegamento ferroviario per l'aeroporto di Olbia. Un progetto a semplice e binario ora esecutivo che prevede anche la nuova stazione, cosiddetta di testa, denominata Olbia Aeroporto. Il bando di gara prevede un lotto unico per un importo posto a base di gara di 114,2 milioni di euro, dei quali 1,7 milioni solo per la progettazione. Si tratta di un nuovo passaggio su tempi accelerati dall'esigenza di iniziare i lavori e chiudere l'opera entro il 2026, secondo i termini tassativi imposti dai fondi del PNRR, dopo la conclusione della conferenza di servizi e il parere favorevole di tutti i soggetti coinvolti di qualche mese fa, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del collegamento ferroviario. Il tracciato sarà di 7 chilometri, con il nuovo tratto progettato che sarà lungo 3,4 chilometri e si collegherà con la linea esistente all'altezza della località Michaledu, garantendo in futuro anche il raccordo con la linea attuale in direzione Chilivani. Unico progetto infrastrutturale finanziato ed esecutivo sul territorio con le risorse del PNRR prevede la realizzazione di una tratta ferroviaria a semplice binario e non elettrificata, ma con le caratteristiche tecniche necessarie ad una futura elettrificazione per il collegamento Olbia Aeroporto. Il collegamento con la linea esistente avviene mediante la realizzazione di un bivio in direzione della stazione Olbia Terranova. La grande novità progettuale sarà la stazione nell'aeroporto di Olbia, che si colloca a circa 300 metri dall'accesso alle partenze dell'aerostazione, nell'area attualmente occupata dal parcheggio riservata agli operatori dell'aeroporto.